Con violenze e continue minacce, pretendevano denaro dai loro genitori per comprare alcolici e sostanze stupefacenti. Due drammatiche storie di maltrattamenti familiari sono state scoperte dai carabinieri della stazione del nucleo operativo di Molfetta, che a seguito di segnalazioni al numero di emergenza, sono intervenuti in due differenti abitazioni del centro cittadino, arrestando due persone. Il primo a finire manette è stato un giovane di 19 anni, responsabile dei reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Ad alertare i militari sono state il padre e la madre del ragazzo, stanchi delle continue richieste di denaro, alle quali erano da tempo sottoposti. Soldi che, verosimilmente, erano destinati all'acquisto di sostanze stupefacenti. Alla vista degli uomini dell'arma, il 19enne ha cercato di fuggire, spintonandoli. Un tentativo rivelatosi comunque inutile, visto che il giovane è stato immediatamente bloccato ed arrestato. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Trani. Stessa sorte è toccata ad un operaio molfettese di 43 anni, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri, sempre con l'accusa di estorsione. Ancora una volta, ad avvisare i militari, è stato il genitore dell'uomo, dopo che il figlio, armato di coltello, aveva preteso soldi per l'acquisto di alcol e droga. Dopo la chiamata al 112, l'anziano padre era riuscito ad abbandonare l'abitazione, dove sono giunti, pochi minuti dopo, gli uomini dell'arma. Il 43enne, che era ancora in casa in attesa dell'arrivo del genitore, è stato bloccato ed arrestato. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere di Trani. Il coltello, con lama lunga circa 8 centimetri, è stato sequestrato.